Ciao ragazzi, buongiorno. La video-telezione di oggi riguarda il disegno tecnico. Nello specifico andremo a fare, a realizzare, una piramide che viene sezionata con un piano alfa, inclinato di un tot di gradi rispetto a P.O. e perpendicolare a P.V. Iniziamo con l'osservare quello che accade nello spazio. Come vedete, questa è una piramide che è appoggiata su P.O. Osserviamo. Che altra caratteristica ha questa piramide? Provate a ragionare. Uno spigolo della base della piramide è parallelo all'asse delle X, ovvero questo. Spigolo è parallelo all'asse delle X ed avrà una distanza, quindi da P.V., che non ho specificato. Una volta che avete realizzato in proiezione ortogonale la piramide, e noi già l'abbiamo fatta, ora poi alla fine di questo video-lezione vi mostrerò il risultato, andiamo ad attivare quello che è il piano di sezione. Eccolo qua. Questo qui è un piano che è perpendicolare a P.V., quindi l'angolo che si viene a formare è di 90 gradi, ed è inclinato rispetto a P.O. Questa è l'inclinazione. Quindi io su P.V. andrò a vedere l'inclinazione rispetto a P.O. Ecco qui. Questo piano seziona la piramide, e si forma quella che è la sezione, quindi l'intersezione tra il piano e il solido. Ora, per praticità, tolgo il piano di sezione. Questa è la piramide che è sezionata. Cosa accade a questa piramide? Innanzitutto, su P.V., ecco qui, viene completamente tagliata la parte superiore della piramide, e quindi questo lo vedo. Su P.L. vedrò la sezione, questa parte, e anche su P.O. Vado ad attivare la visualizzazione su P.O. E anche su P.O. vedrò la sezione, che in questo caso è tratteggiata, della piramide. Quindi su P.O. vedrò il pentagono di base, le cinque facce, essendo una piramide a base pentagonale, un altro pentagono, che questa volta non sarà un pentagono regolare, ma sarà un pentagono irregolare, che è questo. Su P.V. Ecco qui, questa è la parte che non si vede, quindi è come se io la togliessi, quindi non la vedo più. E su P.L. Togliamo la parte sezionata, togliamo il piano di sezione, scusatemi, togliamo il piano di sezione, e vedo le due facce laterali, non vedo più il vertice in alto, e un altro pentagono irregolare. Ok, una volta che si è capito quello che accade nello spazio, andiamo a vedere come questa rappresentazione la vado a rappresentare sul foglio da disegno. Quindi, inizio a disegnare la piramide nelle tre proiezioni, su P.O., su P.V. e su P.L., come se questa non fosse per adesso sezionata. Quindi questo è il piano di sezione. Quindi questa è la T'α, questa è la T'α, questa è la T'α, quindi la prima traccia del piano α, la seconda traccia e la terza traccia. Questo angolo sarà quello dell'inclinazione del piano con P.O., ecco qui, la ricordate? Vi mostro. Era questa situazione qui. Quindi, l'inclinazione del piano. Stavo dicendo, come disegno? Disegno prima la piramide come se non fosse sezionata, quindi ha uno spigolo di base che è parallelo all'asse delle X, quindi questo è lo spigolo di base. Disegnerò il pentagono, la distanza da P.L., in questo caso, non ci interessa, perché non l'ho data. Ipotizziamo che questa, la distanza da P.V., sia di 2 cm, da qui a qui ci saranno 2 cm. Quindi disegno il pentagono, il pentagono di base, disegno le tre mediane, una, le cinque mediane, una, due, tre, quattro e cinque. Determino il vertice, lo porto con l'altezza, quindi da qui a qui sarà l'altezza della piramide. Ipotizziamo 12 cm, quindi da qui a qui 12 cm. Riporto il vertice qui, per poi trovare il vertice su P.L. E completo le tre proiezioni, P, O, P, V e P.L. Questa è un'operazione che abbiamo già fatto, se ricordo bene, anche quando eravamo a lezione normale. Una volta che ho fatto questo, inizio a determinare quelli che sono i punti di sezione, cioè i punti in cui la traccia, la seconda traccia del piano alfa, interseca i diversi spigoli della piramide. Iniziamo con questo spigolo, questo che sto evidenziando. Quindi, questo spigolo viene intersecato dalla traccia in questo punto, che identificherò con il punto F' Questo spigolo non è altro che questo spigolo che si vede su P.O. Quindi, da qui a basso questo segmento fino ad intersecare il corrispondente spigolo, F' F' Procedo, la stessa identica cosa, con questo spigolo, ovvero questo. Interseca in G' Abbasso e trovo G' Per adesso lasciamo perdere questo punto, perché lo determinerò da P.L. Questo è un altro spigolo che è questo qui. Il punto H' lo abbasso in corrispondenza dello spigolo che è intersecato e trovo H' e per finire questo spigolo e questo spigolo qui abbasso il secondo e trovo il primo. Stessa cosa si fa su P.L. Andiamo a vedere gli spigoli. Quindi, questo spigolo qui è questo. Ok? Questo spigolo era questo qui. Quindi, G' secondo G' terzo. Andiamo a determinare questo spigolo e questo spigolo qui che è sempre questo nella parte posteriore. Riporto il punto e trovo H' terzo. Andiamo a determinare quest'altro spigolo, l'intersezione. I' secondo, questo spigolo era questo qui. Quindi, andiamo a vedere dove si trova. Eccolo. quindi da qui riporto questo ed è trovo I' e per finire F che è questo spigolo ovvero questo cioè questo F' terzo. Naturalmente qui mi manca questo punto L' che non posso determinare abbassando da PV una linea di riferimento perché non saprei dove fermarmi. come lo determino? Questo spigolo è questo qui. Dove lo trovo su PL? Andiamo a vedere. Eccolo. Quindi, da L' secondo parte una linea di riferimento che interseca lo spigolo su PL su L' terzo. A questo punto ho determinato L' terzo abbasso riporto sull'asse delle Y fino al corrispondente spigolo. ed ecco qui L' una volta che ho determinato i diversi punti li unisco qua ho determinato la sezione qua ho determinato la sezione questa faccia e questa faccia qui immaginate di guardare da questa da questo punto di vista quindi giallo giallo verde è questo questa faccia su PL è questa gialla questa faccia su PL è quella azzurra ricordate di mettere in modo chiaro le lettere e le lettere in questo caso sono fondamentali per riuscire a determinare i diversi punti di intersezione perché come vedete G è sempre G e G quindi se io riportassi che facessi questo guardate che cosa accade quindi in basso e poi da qui con il compasso e poi da qui riporto perpendicolarmente andrei a trovare sempre G ecco eliminiamo questi per chiarezza avete visto G terzo corrisponde sempre con G primo e con G secondo bene il compito che vi assegnerò sarà qualcosa di simile a questo probabilmente invece di essere parallelo lo spigolo di base parallelo all'asse delle X lo farò parallelo all'asse delle Y cambiano un po' di cosette naturalmente per certi aspetti sarà anche più semplice perché in quel caso tutti i punti li troverete poi ve ne accorgerete non ci sarà bisogno di fare questo del punto L ok buon lavoro e ci si risente alla prossima settimana e ci si Grazie a tutti